Ricerche ancora senza esito e cresce l'apprensione tra i familiari e gli amici di Milena Santirocco, la donna di 54 anni di Lanciano, della quale dal pomeriggio di domenica 28 aprile non si hanno più notizie. La donna, insegnante di danza ed esperta di fitness, era uscita di casa dopo aver pranzato con il figlio, dicendo di andare a fare una passeggiata al mare, ma non ha fatto più ritorno. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Chieti e vedono impegnati polizia, vigili del fuoco, guardia costiera, protezione civile. L'auto della donna è stata trovata in un parcheggio nella zona Borgheta Marina di Torino di Sangro con una ruota sgonfia. Il suo cellulare risulta spento da domenica nel tardo pomeriggio. Cosa è successo a Milena? Dove è finita? Sonia Santirocco, preoccupatissima ovviamente, le ipotesi sono tutte aperte, però lei esclude l'ipotesi di un allontanamento volontario? Assolutamente no, perché mia sorella amava la vita, era solare, pimpante. Sempre col sorriso e l'ultimo mese era serena più del solito. Lei si è subito allarmata quando ha visto anche il profilo Facebook cancellato? Sì, il profilo Facebook cancellato quando mia madre mi ha detto guarda che Milena non è tornata a casa, sono andata subito a controllare e non c'era più profilo per vedere se c'erano delle foto che aveva messo, dove era stata. E lì ho detto, ho pensato subito a cose non positive, però allontanamento volontario no, ho pensato subito a qualcuno che le avesse fatto del mare oppure che si fosse fatta male, un malore, quindi perdita di memoria. Le ipotesi possono essere tante, ma allontanamento volontario assolutamente no. Lei abitualmente frequentava queste zone? Spesso e volentieri, allora lei è super sportiva, è sottice di fitness, è maestra di ballo, appena aveva una mezza giornata o veniva qui sulla costa di Tabucchio o nella lecceta che amava tanto, oppure andava in montagna a fare delle escursioni, sempre immersa nella natura, sempre. E domenica pomeriggio ha fatto dei dissati Whatsapp di una spiaggia che sta qui sotto. Ovviamente la speranza di ritrovarla, insomma qui si sta muovendo il mondo? Sì, si sta muovendo il mondo, però non lo so, segnalazioni varie, ma niente. La preoccupazione è tanta? È tantissima, purtroppo sì.